Il salone dell'auto di Parigi apre i battenti con tutta la parafernalia di boli, di motori, nuovi modelli e belle donne, ma è innegabile che l'edizione di quest'anno veda dei forfè che sarebbero stati impensabili appena l'anno scorso. I gruppi FCA, Volkswagen, Ford, Opel e Nissan. Ed è proprio il gruppo che era guidato dallo scomparso Sergio Marchionne a destare preoccupazioni fra gli analisti soprattutto italiani. Si sta ristrutturando, ma la scomparsa di Big Sergio ha obbligato i vertici a ridisegnare l'intera struttura di comando. Pochi casi nella storia del marketing hanno identificato prodotto, produttore e messaggio come nel caso della FCA di Sergio Marchionne. Questo, sommato alla crisi del settore, sta segnando le settimane del gruppo senza contare che il mercato italiano dell'auto ha segnato un meno 25,4% a settembre. Per le case è stato un bagno di sangue, FCA è scesa del 40%, solo Audi meno 51% e Renault meno 48,5% hanno fatto peggio. Le nuove norme sulle emissioni e il passaggio alle omologazioni Euro 6C e 6D hanno obbligato i costruttori ad applicare in estate forti sconti per smaltire gli stock. FCA sembra essere fra le aziende che più soffrono a ridisegnare la nuova strategia, una strategia senza Sergio Marchionne.